Rassegna stampa del mattino, oggi mercoledì 27 gennaio 2021, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questa è l'informazione in diretta delle 7 del mattino, iniziamo con il santo, poi andiamo a vedere il tempo e i giornali, il santo di oggi è una santa, Sant'Angela Merici, il sole sorgerà alle 7.33 e tramuterà alle 17.14. Bollettino della protezione civile delle Marche, per oggi cielo sereno con transito di nuvole medio-alte nel tardo pomeriggio, temperature in diminuzione quelle della notte, in lieve aumento le massime, avremo ancora gelate estese nella notte e al primo mattino, quindi attenzione anche oggi, giovedì domani ancora cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in aumento quelle massime, ancora gelate in notte il primo mattino, mentre per la giornata di venerdì avremo un cambio con precipitazioni deboli nelle ore pomeridiane, prima in montagna e poi verso la costa, ancora un po' di vento, fino a Burrasca nelle zone di colline e montagna, venti che soffieranno da sud, probabile tempo instabile anche per sabato e in particolare nella giornata di domenica, poi il tempo migliorerà invece la prossima settimana, lunedì. Allora andiamo subito a vedere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, test, tocca a voi studenti, l'appello del sindaco di Pesaro Ricci per partecipare allo screening che inizierà domani in sette istituti, personale, logistica e forniture pronte, determinante raccogliere le adesioni di ragazzi e prof. Bocciodromo, le prime offerte, nuovo impianto, si parte con i servizi. L'intervista a Gianluca Gregori, rettore della Politecnica delle Marche, trova spazio in prima pagina qui di Spalla, l'intervista a Università da febbraio, la presenza sarà per tutti. Incubo, ghiaccio invece, strade, trappola, caos, incidenti in tutta la provincia pesarese. Morti sulle silicate, Orazietti non tirò il freno a mano, coca troppo pura e le due condanne sono più pesanti. Qui di Taglio Basso invece è capitale della cultura con villaggio musicale. Il Comune di Pesaro prepara un pacchetto contenitori ma spunta Ascoli come concorrente. E adesso il Carlino di Pesaro. Gli imbucati dei vaccini, è la fotonotizia di oggi, la denuncia, dosi agli amministrativi al posto dei sanitari. Riccia agli studenti, fate i tamponi, ma Salta Martini dice ci ripensi. Campionato di giornalismo, ecco i cronisti in classe, poi Covid, effetti collaterali, vietato partorire a Pesaro, al San Salvatore e 100 mamme vanno a Rimini. Nuova scuola, svolta epocale dopo 43 anni. Il titolo, meritiamo di tornare in zona gialla. Quaroli scrive a Speranza, l'indice RT stabilmente sotto l'1 e la pressione ospedaliera è in calo. Tragedia delle silicate, Orazietti a processo, tirò il freno a mano, tre vittime tra cui la compagna. Poi rubò le borse a Rossella Sensi, condannata per furto griffato. Di taglio basso, Crisi, Vis, Pesaro, faccia a faccia, ultra di Donato. Il tecnico ha incontrato una delegazione dei tifosi dopo il pesante K.O. di Legnago. E poi il basket con Gurini, Vuel, Repescia, super tanto di cappello. Uno degli ultimi grandi della scuola pesarese, squadra bella e vincente. Allora, il ghiaccio, dicevamo ieri mattina, chi segue la rassegna stampa tutti i giorni, esce di casa sempre informato, quindi sapeva benissimo il pericolo che correva lungo le strade ieri mattina all'uscita, soprattutto per chi segue la diretta delle 7. Ieri mattina, complice anche la pioggia che poi è stata ghiacciata dalle basse temperature, le strade erano di fatto una lastra di ghiaccio. Tante le persone che sono finite a terra, biciclette, motorini, auto che sono finite fuori strada. I giornali questa mattina raccontano proprio questo. Ghiaccio in agguato, incidenti ovunque, il Carlino, nessun spargisale è stato attivato nella notte, per cui ieri mattina auto, furgoni, camion sono usciti di strada, centrata anche una volante della polizia. Il Corriere Adriatico invece è un incubo ghiaccio sulle strade trappole, incidenti a catena e il traffico va in tilt, coinvolti anche studenti in scooter che stavano andando a scuola gelata, persino l'area del mercato. Mentre qui sotto il Corriere Adriatico pubblica due notizie. La prima è una segnalazione, vedete, guardate questa fotografia, con questo monopattino che sto cerchiando con l'evidenziatore giallo, che di fatto è finito contro la carrozzeria di questa automobile parcheggiata sulla strada. Siamo in zona Pantano a Pesaro, in Via della Chiara. Questo segnalatore dice, scrive, questo accade con i monopattini abbandonati in ogni luogo senza nessuna regola. Chi paga i danni? Perché questi veicoli possono girare senza regole o assicurazione. In effetti adesso il titolare di questa automobile, evidentemente rovinata da questo monopattino, dovrà pagarsela, dovrà pagarsi i danni dal carrozziere senza prendersela purtroppo con nessuno. Invece l'altra notizia, sempre sul Corriere di questa mattina, un cliente che entra nel supermercato Lidl di Torraccia, sempre a Pesaro, senza mascherina, minaccia il titolare che gli aveva detto giustamente di indossarla. Questo ha voluto continuare a rimanere dentro il supermercato senza indossarla e quindi è arrivata la polizia. Ma quando è arrivata la polizia, questo se l'è filata a gambe. Parliamo adesso invece della situazione Covid nelle Marche. Allora, i dati, quali sono i dati delle ultime ore? Dati sono questi, li pubblica anche il Corriere. Discesa troppo lenta, la sfida al Covid ancora corre sul filo del rasoio. Il paragone con sei settimane fa infficiato dal raddoppio dei tamponi processati. La vera partita è negli ospedali, dove però i numeri diminuiscono solo gradualmente. Meritiamo la zona gialla, dice invece Acquaroli, che scrive al Ministro Speranza, lettera del Governatore, indice RT sotto 1 dal 15 novembre. i ricoveri sono diminuiti, più posti letto nelle rianimazioni, dunque la virtù, dice Acquaroli, va premiata. Intanto ancora tanti casi di virus, 219, ma il trend è in miglioramento. Acquaroli scrive a Speranza, titola il Corriere, l'RT sotto 1 da novembre, vogliamo ritornare in giallo, cauta soddisfazione per la ripartenza della scuola, è un segnale di normalità. Poi il dettaglio dell'assessore regionale Saltamartini, che dice nelle case di riposo, nell'RSA, vaccino a 3.000 ospiti e operatori. L'assessore fa chiarezza in Consiglio regionale. E sempre Saltamartini sul Carlino di Ancona, dice Marche verso la zona gialla, arrivano altre 5.000 dosi di vaccino Pfizer. L'assessore regionale mostra ottimismo, ma finisce ancora nel mirino dell'opposizione. L'RT della nostra regione è ancora però sotto l'1. Ricci, studenti, fate il tampone. Saltamartini però evoca la Corte dei Conti. Il Sindaco lancia l'appello in vista dello screening per il mondo della scuola, che comincerà domani. Solo per Pesero lo ricordiamo. L'assessore regionale non esclude però irregolarità. E poi si pone una domanda, che è anche una domanda lecita. Che cosa succederà quando verranno trovati studenti positivi? La procedura nello screening regionale prevede il tampone molecolare di conferma e poi il tracciamento, ovvero il tampone ai contatti del contagiato. Ora, Saltamartini dice auguro a Ricci che vada tutto bene, perché a fronte di un solo positivo si innesca la procedura di legge con l'Asur che verifica la legittimità del contesto in cui si riscontra la presenza della persona positiva. Ora, è un rischio questo che si deve, che è da correre, si domanda ancora Saltamartini. Comunque evito ogni polemica, ma la funzione sanitaria è affidata alla Regione e ne risponde la Regione. Quella di Pesero, quella pesarese, è un'iniziativa del Comune. Intanto Pieri dice a disposizione per ora 4.500 test rapidi, ma se serve possiamo anche raddoppiare. Cambiamo argomento, la triplice tragedia di Colombarone. Siamo sempre nel Pesarese. Orazietti non tirò il freno a mano, è stata depositata la doppia perizia di parte su dinamica e condizioni psicofisiche dell'unico indagato, che è questo qui. Il 34enne Orazietti, secondo l'accusa, invece avrebbe tirato il freno a mano mentre l'auto era in corsa, era lanciata. L'azionamento della leva avrebbe fatto sbandare l'auto, facendola finire contro la Fiat 600, in cui si trovavano due persone, due coniugi che sono morti sul colpo. Questa è l'auto che vedrete nella fotografia nel 2019 e tra le vittime, oltre queste due persone che viaggiavano sull'altra auto, anche la compagna di Orazietti che viaggiava sulla stessa auto dell'unico sopravvissuto e che adesso è finito a processo. Anche sul Carlino, tragedia delle Siligate, Orazietti a processo. Adesso la difesa ha scelto il rito abbreviato, verranno ascoltati anche sei periti, si cerca di appurare se l'imputato possa aver tirato il freno a mano dell'auto. L'accusa è concorso in omicidio colposo di tre persone, chiederà i danni anche lui. E poi i carabinieri che controllano 500 persone, denunce, arresti nel fine settimana e un'auto forza anche il posto di blocco. Vi segnalo questa mattina, pagina 7 del Carlino, sempre su quello che dicevamo anche ieri, a proposito dei cellulari dati ai figli e questa nuova legge che probabilmente verrà fuori o perlomeno si inizierà a discutere per vietare ai bambini di usare il cellulare, i nostri figli nelle trappole mortali dei social. Il cellulare è come imparare a camminare. Intervista la dirigente della Polizia Postale delle Marche dopo gli ultimi tragici fatti con bambini morti per assurde sfide in rete. Per noi intervenire su TikTok, dice, è difficile perché è cinese, non ha filtri. Qui, per fortuna, non c'è nessun caso. Poi l'appello e il ruolo dei genitori è fondamentale per insegnare loro l'uso del telefono e soprattutto non avere rischi. Da Fano, risarcimento della memoria e dell'onore. Quelle medaglie come un debito della storia. Oggi Luciano Benigni riceve il riconoscimento per suo padre tra gli internati militari italiani in Germania. E l'esponente di Bene Comune, dopo un post su Facebook, ha ricevuto molte richieste di notizie su come avviare l'istanza. Poi la Shoah, raccontata con parole adatte ai bambini, tre iniziative dedicate alle scuole elementari con lo storico Pari dei Dobloni. Da Fano, invece, il Carlino, seri ripesca marchegiani, avrà deleghe per la cultura all'ex assessore i due più importanti progetti della città, il teatro romano e la fabbrica del carnevale. Nessun problema, dice, con il sindaco marchegiani. Semmai, se c'è un problema, c'è con il Partito Democratico. La decisione sarà formalizzata nel prossimo Consiglio Comunale, convocato per domani. Motopesca, sempre da Fano. Motopesca imbarca acqua e poi affonda nel porto. Ancora da chiarire le cause della falla. La Capitaneria dice sversamento confinato, le operazioni di recupero previste per questa mattina senza interferire con l'attività ordinaria. E poi un'autocisterna che scivola sul ghiaccio e sbatte contro un'inferriata. È successo a Bellocchi di Fano ieri mattina. Un'auto articolato è andato a sbattere contro una cancellata per colpa del ghiaccio. A Colli al Metauro, addio a Don Giuseppe. I funerali del sacerdote in diretta su... Qui parla di streaming, ma posso dirvi già e anticiparvi che i funerali di domani saranno in diretta su Fano TV alle ore 15, in diretta da Colli al Metauro. Poi ancora, il legale dell'imputato ricostruisce l'esito della perquisizione. A teatro non c'era cocaina, in merito all'articolo di ieri sul Carlino. E poi rubò soldi a... Lui Vittonna Rossella Sensi, condannata a 20 anni, è una nomade dimorante in provincia di Frosinone. Nell'agosto del 2019 svaliggiò le camere dei clienti di Palazzo Rosati, dove tra l'altro c'era appunto ospite anche Rossella Sensi, 50 anni, figlia dell'ex patron della Roma, Franco Sensi, e lei stessa che è ai vertici della società calcistica della Capitale, che era in vacanza a Fano l'11 agosto del 2019. A bell'occhi ben 76 sforamenti, l'inquinamento sottovalutato per la zona industriale del Movimento 5 Stelle segnale il raddoppio del limite di legge, rischi letali per la salute. Poi l'upus in fabula, che se la prende, ormai questo è un po' un disco rotto, con l'ASET per le potature radicali alla rocca, alberi massacrati, l'upus in fabula accusa ASET di danneggiare il patrimonio verde, l'intervento non si deve notare. Gli ambientalisti rilevano incongruenze tra contratto e prassi e interpellano Brunori. Area chiusa, sempre dalle pagine di Fano del Corriere, area chiusa per infiltrazioni, disagio e pericoli al cimitero, nella struttura centrale delimitato un padiglione, ma qualche anziano, nonostante la chiusura, passa lo stesso, mettendo chiaramente in pericolo anche la propria vita. Poi, caro Andri, avevi ragione, la vita fa brutti scherzi, i ricordi dei fratelli titolari della palestra in cui lavorò Andrea Bindi. Oggi è prevista intanto l'autopsia, l'autopsia nel corpo di Andrea Bindi, 49 anni, che è morto qualche giorno fa, stava completando l'ultimo giorno di digiuno, erano tre i giorni di digiuno, a cui si sottoponeva ogni tanto, faceva dei digiuni, e quindi da capire se c'è questo nesso, questo collegamento tra il digiuno e la morte. Quando si tornerà a nascere a Pesaro, in città, intanto 100 mamme hanno partorito a Rimini. Il consigliere regionale Biancani torna in pressing, invece di Fano, molte vanno in Romagna, e la situazione va affrontata. Famiglie sballottate, poi per le visite dei figli, tra il San Salvatore e il Santa Croce. A Vallefoglia, un polo tecnologico, il sindaco ci riprova con Carloni, lettera all'assessore regionale, disponibili a collaborare l'Università di Urbino e due istituti bancari. Mentre a Monteciccardo apre lo sportello dei tributi con il personale Aspes. Si infortuna a Palermo, si fa male a Palermo, e poi in ospedale contrae il Covid. Parte l'appello per riportare a casa Mauro Andreini. Un incidente sul lavoro in un cantiere d'Ile e poi l'infezione in ospedale. Mondolfo si mobilita su istanza dei nipoti. Inviata un'email al sindaco Orlando, il paziente doveva essere operato, si chiede dunque il trasferimento. Da San Lorenzo in campo, Fileni ne abbiamo diritto, ma rinunciamo al ricorso. L'azienda non procede al Tar per lo stabilimento avicolo, visto il deciso no del Comune. E poi ancora, da Urbino, la buona notizia che riapre, cardiologia, è terminata la quarantena, i sanitari che erano finiti in isolamento possono finalmente rientrare. Magnoni dice si torna operativi senza aiuti dall'esterno. Situazione migliore anche nella zona contumaciale, dove ci sono due contagiati, dice Elisabetta Foschi, che è assessora della Sanità del Comune di Urbino. Poi sul Corriere, Callucio, la discarica, ricorso inammissibile, i residenti pagheranno le spese. Soddisfazione del Presidente della Provincia Paolini, che dice noi abbiamo operato correttamente. E poi riapre a pieno regime il reparto di cardiologia. E ancora, dalla Valmetauro, sequestrata la fornace e dismessa, siamo a terre roveresche. Il NOE dei Carabinieri dice è una discarica abusiva. Abbandonati i rifiuti speciali nell'area prossima, alla strada non recintata. Poi l'addio a Don Peppe, domani a Santa Croce di Calcinelli. La salma del parroco verrà al mattino a posta vecchia. Dunque l'ultimo saluto a Don Giuseppe Monaco, 72 anni, avverrà domani alle 15, alle 3 del pomeriggio, nella chiesa Santa Croce a Calcinelli, a Colli, al Metauro. La chiesa, la sua chiesa, dove è stato sacerdote per 23 anni. Adesso andiamo invece sulle pagine di Senigallia, Corriere Adriatico, Lungomare Da Vinci, si usa anche la corsia che non c'è. Gli automobilisti ignorano il senso unico, la pista ciclabile utilizzata per i sottopassi. Proteste nei residenti, il Comune ha chiesto ai vigili urbani di intensificare i controlli. Poi sul ponte 2 giugno, adesso qui si decidessero o si chiama 2 giugno o degli angeli, perché altrimenti facciamo confusione. Allora, sul ponte 2 giugno adesso si lavora in marciapiedi. Slita invece a fine febbraio il dragaggio del porto, l'incognita scolmatore. Sempre da Senigallia, Carlino, no al muro sulla ferrovia, le marche isolate, riunione della Commissione tra le Regioni. L'assessore Aguzzi mantiene la posizione, ma gli altri avallano l'intesa con RFI per la realizzazione. Poi vandali e pirati della strada, sale la rabbia e caccia al pirata che ieri ha urtato un'auto in via della Passera ed è scappato. Si tratta di un'auto bianca che viaggiava nella carreggiata opposta a quella dove c'era in transito una vettura rossa a cui l'urto ha provocato la rottura dello specchietto retrovisore. Commissione Mensa, verso le nomine, il Presidente Bello annuncia i prossimi appuntamenti a partire dall'approvazione del bilancio. E sempre da Senigallia però dal Corriere Adriatico l'imprenditoria piange a Rinaldi, una vita dedicata alla sua torneria a Barbara inserito per errore tra i morti per Covid, il Sindaco stroncato invece da complicazioni di altre patologie. Questa è la fotografia di Franco Rinaldi, funerali del 63enne oggi nella Chiesa di Santa Maria Assunta. Mentre le onde danneggiano il bar, il titolare del Lady serviranno almeno 3 mila euro per sistemare i blocchi di protezione. Chiudiamo con questa notizia visto che ne abbiamo parlato già nella nostra rassegna stampa qualche giorno fa. Attenti, ci rubano l'identità su WhatsApp. Questo è un fatto che è realmente accaduto in questi giorni, in questi ultimi tempi. ci sono degli attacchi hacker dove tra l'altro c'è un focolaio in Romagna e in trappola è finito anche un sindaco. La polizia dice non rispondete a messaggi che contengono link o codici. Ora, su questo bisogna fare veramente attenzione perché se no si finisce nelle mani di criminali della rete che possono accedere alle nostre rubriche ma soprattutto ai dati sensibili. Quindi ai dati anche dove ci sono per esempio le password per accedere al conto online della propria banca e quant'altro. Allora, in sostanza senza farlo troppo lunga perché poi se no rischiamo di fare confusione, se dovesse arrivarvi un messaggio che solitamente arriva da un contatto che voi conoscete quindi può essere anche vostro figlio o vostra figlia un messaggio dove però è un messaggio strano dove ci sono dei link dove vi chiedono dei codici eccetera ecco voi non rispondete soprattutto non pigiate non cliccate sul link e non inserite nessun codice ignorate completamente quel messaggio se è un messaggio strano che non vi garba anche se fosse di un parente stretto vostro padre vostra madre vostri figli qualcuno che conoscete il vostro capo di lavoro insomma qualunque cosa dove c'è un link o un codice da inserire un messaggio strano cancellate tutto e fate finta di niente meglio di così non sono riuscito a dirvelo grazie per averci seguito stasera c'è il telegiornale Occhio alla Notizia la rassegna torna invece domani mattina alle 7 come sempre puntuali passate una buona giornata arrivederci vi grazie a tutti a tutti